siamo live ragazzi un saluto da dottor palmas dimitri dottor dimitri o davide e massimo pacchetti di milano di milano che siamo tutti agli asci abbiamo inaugurato stanotte altre tre poltrone ve le volevo far vedere questa io ti posso fare i complimenti questo è lo studio per esempio di davide che ha un sacco di cose belle possiamo far vedere sacco di spazio connesso direttamente con la tac 3d questo è un intervento per esempio che abbiamo fatto di massimo oggi ed è possibile qua andare a vedere come sono stati posizionati gli impianti dentali vi ricordo che anche agli asci eseguiamo riabilitazioni estreme della bocca impianti se denti fissi su sei impianti dentali su otto impianti dentali quanti pazienti ci sono stati a luglio a luglio tra italiani locali penso su 180 180 pazienti se non tacare siete stanchi mai stanchi e questo è un lavoro tipico che viene eseguito per esempio qua agli asci posizionamento di impianti dentali e ricostruttiva di tutta la bocca e si va a finalizzare il lavoro quello che si va a fare cos'è che si va a fare qua agli asci si va a fare tempo di sette giorni è una protesi fissa su impianti provisoria questa provisoria con le gengive diventa così praticamente con le gengive o come questa questa la nostra linea superior con i denti poi dentro in zirconio sopra esatto che vengono cimentati ragazzi sappiate che quando verrete agli asci troverete i ragazzi che stanno attivando in totale ci sono sette poltrone poi facciamo un tour facciamola vedere la clinica dai comunque fa fa veramente effetto è proprio bella questa questa ora vediamo per esempio paziente che si sta accomodando in poltrona grande qui per esempio ci abbiamo ora la diana che sta scannerizzando un'impronta che è stata fatta vedete che lo scanner qua sta andando a rilevare quella che l'impronta è stata fatta in bocca al paziente sono dei bravi ragazzi questi qua i asci facci vedere l'ufficio qua ci abbiamo i lavori in corso ci stanno sistemando il televisore nella cucina ci stanno sistemando andiamo su andiamo al piano di sopra fai vedere gli uffici dove che sistemate gli uffici che oggi stavano montando i mobili dove ci saranno tutti i ragazzi che si occupano delle terra del contatto coi pazienti dopo le cure della direttrice qui praticamente ci sarà la direttrice mazza che bello ufficio si è presa lei mazza il più bello qua in piccionaia guarda guarda che panorama che c'è capito sta sul cucuzzolo bello bello e questa è anche una stanza multifunzione che viene utilizzata pure per fare corsi e per fare allineamento tra il personale ma al design chi l'ha scelta io come lei veramente bravo questa è la parte più bella non vedo l'ora che l'attivate qua ci sarà il gazebo con anche il barbecue per poter arrostire quindi agli asci dov'è che lo metti occhio che non cadiamo qua mettiamo di là il gazebo quindi qua ora andiamo a fare il giardino il giardino faremo faremo qua un kamak non so una lamaka lamaka qui saranno dei posti per rilassarsi per rilassarsi esatto qua metteranno gli alberi posti per rilassarsi e udite udite hanno finito finalmente di montare l'ascensore c'è anche l'ascensore facciamo un turco l'opera d'arte è stata ultimata ci hanno messo quanti tre mesi cinque mesi per fare quattro mesi per fare questo ascensore oper è bello è tutto bene le pazienti ma che sono già venuti da noi qui si rendono conto come è cambiata ora il piano di mezzo come lo chiamiamo noi lì quello i prossimi mesi lo andremo a chiudere perché anche lì vogliamo ristrutturare tutto lo facciamo bello 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 andiamo al piano zero vediamo cosa è successo al piano zero quindi 180 pazienti avete fatto 80 pazienti prime visite tutto 80 cali ecco ecco quello era il piano di mezzo l'hai visto si è visto si è visto un po ok 180 pazienti un bel po sono quindi e qua invece non so se ricorda i pazienti per il vecchio laboratorio sarà la sala d'attesa poi adesso il laboratorio poi sarà la sala d'attesa ok qua siamo invece alla vecchia sala d'attesa e ora siamo in chiusura perché qua a che ora chiudete in genere qua cinque mezzo a sei si chiude qua ci sono invece le altre poltrone una poltrona chirurgica questa che viene o no qua facciamo le le terapie endodonzia ricostruttiva si qua la seconda poltrone invece quindi in totale sette poltrone sente poltrone attive e abbiamo inaugurato proprio l'altra notte le ultime tre allora ragazzi quando venite in romania a yashi ricordatevi che si può entrare liberamente tornare liberamente non c'è quarantena quando si è quarantena stanto test ma stiamo in full booking proprio oggi mi hanno detto di stoppare praticamente tutte quelle che erano le prenotazioni fino a fine settembre perché è successo una cosa voi dovete sapere che c'è stata una pandemia il fatto che c'è stata una pandemia significa vabbè io ti saluto davide fatto che c'è stata una pandemia significa che tutti i pazienti che si dovevano curare l'anno scorso hanno dovuto rimandare le terapie sotto pandemia e ora ci ritroviamo l'onda anomala di tutti i malati che si devono curare che per un anno hanno rimandato le terapie e le cure oltre questo c'è la stagionalità che qua a luglio agosto ma anche settembre tutti i rumeni tornano a casa e a casa ora ci possono tornare perché hanno il green pass hanno fatto i vaccini tutti quanti e quindi sta tornando uno tsunami di persone di rumeni che stanno occupando le cliniche stanno occupando le cliniche e quando vengono qua che fanno si fanno i denti mica se li fanno in francia in germania in italia i denti rumeni se li vengono a fare qua e quindi ci ritroviamo la somma di tutti i vecchi pazienti che dovevano finire le terapie o che stavano per iniziare o che per x motivi non hanno la connessione aerea per chisina o che stanno arrivando in romania più c'è l'onda anomala di tutti i pazienti stagionali che vengono perché hanno le ferie ad agosto più ci sono italiani oppure europei più ci sono l'onda anomala di tutti i pazienti rumeni che sono praticamente persone che tornano a casa d'estate che ancora di più quest'anno possono venire perché l'estate scorsa erano stati bloccati magari dalla pandemia che stanno andando a portare in full booking rapidamente le cliniche in più il policlinico di chisina ancora più critico perché lì si vanno a sommare tutti i pazienti che devono terminare le cure che hanno iniziato le terapie ad aprile e a maggio agli asci qua e a bucarest alla clinica di bucarest tutti quei pazienti si vanno a sommare agli altri pazienti che devono finire le cure che avevano iniziato a chisina abbiamo mandato un video i giorni scorsi dove vi abbiamo avvisato questo anno ma anche l'anno prossimo sarà tassativo che ci inviate almeno due mesi prima i biglietti aeri perché non avete idea per smuovere 220 persone della fatica che si fa dell'organizzazione che serve della programmazione che serve dobbiamo comprare materiali dare il turno di lavoro agli autisti dare i turni di lavoro alle persone che si occupano della chirurgia dare il turno di lavoro agli oltre 40 odontotecnici dobbiamo fare i turni di lavoro delle infermiere siamo un ospedale vero e proprio 220 persone siamo a livello di ospedale e non è possibile prenotare dieci giorni prima la fine delle terapie perché bisogna smuovere tanti dipartimenti bisogna fare gli acquisti gli acquisti si fanno due tre mesi prima non puoi all'ultimo chiamare la gente scoprire magari all'ultimo che non c'è i materiali materiali vanno acquistati prima si fanno gli stock quindi mi raccomando chi deve finire le cure a settembre a ottobre avete fino al 20 25 di agosto per inviare i biglietti perché se no diventa davvero difficile inserirvi nel ciclo di lavorazione se no andate ai mesi successivi per quanto riguarda i pazienti che devono finire le cure ok questo lo studio l'ho visto da fuori io vi faccio un saluto perché ora devo andare in aeroporto io vado a bucarest ragazzi ci vediamo qui tra una decina di giorni ci vediamo buon lavoro grazie ciao ragazzi